Sì qui parla lì Ehi Questa è la scuola Bello strutturante Non c'è tanto Tanto si mani come un Tau Fa come un bel di lecone Questa aveva una sbara e quindi si aveva una sbara e non con una sbara Lui ci si è come un Tau la posizioniamo comunque una separata per rispettare lo spazio che avevamo avuto sta là i miei passi si è saltati si sta saltando non dimenticare che visto che una spada è quella che ci diamo a passare per le i miei passi molto non c'è la parte e per i volo sovete che lei io ho chi non ho fatto per le scelte non ci sono niente è vece di la scelte si 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 Grazie a tutti.